AgriEuro In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora torniamo al nostro prodotto. La scopa elettrica a batteria Karker VC6 Cordless ha la modalità Boost che garantisce una pulizia profonda anche nelle situazioni più esigenti. Mentre il design ergonomico e le luci a LED sulla bocchetta del pavimento consentono di raggiungere e illuminare anche gli angoli più bui, assicurando la rimozione efficace dello sporco. Tra le sue caratteristiche distintive, spicca l'estrema silenziosità, che fa sì che la pulizia sia un'attività piacevole. La funzione Power Lock libera l'utente dalla necessità di tenere premuto il pulsante di accensione, facilitando operazioni prolungate senza affaticamento. Mentre il supporto a parete con ricarica integrata ottimizza la gestione dello spazio e la praticità d'utilizzo. La scopa elettrica Karker si distingue per la sua leggerezza di soli 2,6 kg, che la rende facile da manovrare e ideale per l'uso quotidiano senza affaticare l'operatore. Versatile e completa, si adatta a una vasta gamma di superfici, dai pavimenti duri come parquet, laminato, pietra, a quelli più delicati come tappeti e tessili, offrendo risultati di pulizia impeccabili anche in spazi complessi come le scale. Grazie a tutti! Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.